salve a tutti ciao ultima serata dopo quattro mesi ce n'andiamo 4 mesi lunghissimi di speranze desideri diciamo che è saltato un po il nostro progetto si è saltato e abbiamo deciso di andare verso un'altra direzione al momento pian piano vi spiegheremo tutto cosa è successo cosa succederà vabbè noi abbiamo lasciato tutto nel regno unito perché avevamo pensato di viaggiare con abbiamo lasciato tutto abbiamo fatto quel lunghissimo viaggio che sicuramente avete visto nei nostri video dove raccontiamo il motivo per cui abbiamo lasciato anche il regno unito e quale era in parte il nostro progetto anche se non avevamo ben chiaro tutto purtroppo poi siamo arrivati qua abbiamo passato le feste il natale con le nostre famiglie quindi che non vedevamo già da tempo ma per cominciare il viaggio abbiamo scoperto che la macchina è un problema perché per attraversare certi posti serve il carnet dei passaggi che altro non è che un passaporto dell'auto dove si vanno a pagare dei soldi a deposito in base al valore della macchina di conseguenza la nostra macchina è nuova e vogliono circa 30 mila euro e 30 mila euro di deposito quindi per fare il viaggio o senza macchina oppure come pagare questo carnet dei passaggi tra l'altro con un mezzo vecchio però sì quindi ritorneremo in inghilterra domani prenderemo la nave sì per livorno e dopo faremo con l'auto fino a metà ignota perché non sappiamo non sappiamo dove dobbiamo andare sappiamo che dovrà essere inghilterra regno unito perché in realtà non abbiamo deciso nemmeno per l'inghilterra dobbiamo scegliere tra galles scozia inghilterra speriamo di trovare un posto che ci piaccia perché non vorremmo tornare a manchester dove stavamo prima vogliamo abbiamo voglia di cambiare anche lavoro tutto vogliamo cambiare quindi vedremo cominciamo il viaggio il nuovo viaggio e Grazie a tutti. Pronti a partire? Siamo addirittura del porto, no, dell'aeroporto. Eh sì, va. Ciao, ciao. Oggi guida Vito. Stiamo salendo sulla nave, cioè non proprio ora, stiamo andando per prendere la nave. Esattamente. Insomma. È pesante la moto. Eh, lo so. Tu non l'hai mai portata così carico. Lo so, io la differenza la so. È pesantuccia. Per questo t'ho detto da Merano è pesante farla in salita. Troppo. C'è la ZTL. Bambino. Poi la mandano a casa, la multa. La ZTL. Un po' di traffico. Un secondo. Un secondino. Grazie. Lu. Grazie, Lu. Ce l'aveva la mano. Mettiamo la freccia che se no ci superano dal lato sbagliato. Perché tu c'è la guida di qua. Ni un po' ci ne superi di qui. La cazza. Perché sei io vi toccionando guido. Vabbè, ce ne stiamo andando. Per forza sono serio. Anzi, sei impegnato a guidare. Quindi non puoi avere emozioni. Salve. Livorno. Sì. Servono documenti? No, no. A sinistra. Che molo è? Molo 420. Ok. Grazie. Siamo entrati al porto. Siamo entrati al porto. All right. Sempre in volo. Sempre dritto. Sempre dritto. Cominiamo piano. Allora, la famosa navetta. Quella da crociera non c'è. Sempre non è questa. No, amore. Queste sono quelle per Napoli. Sì, guarda. Sai che vuole l'autobus? Perché loro vanno pure a Livorno. Da quella parte. Ah, perché i cammini fanno entrare in un moto e le macchine da un altro. Capito. E non devo fare quella fila. Reception. Di qua. Reception. Vai. Stiamo cercando la Reception perché è strana questa nave. Non ce l'ho mai salita una nave così. Mac. Come ti senti? Al momento sperduta. E ancora siamo qua? No, onestamente la nave che ho preso io, che è quella che fa Palenogeno, non è diversa da questa. È molto più grande, però dietro c'era. C'è molto più personale. Quindi sai dove devi andare. Deck 7. Sala portrone. Sala portrone. Ma che è un palazzo? Il buono di non avere la cabina e cercarla. Se abbiamo le portrone non dobbiamo cercare nulla. Dai, amone, vorresti fare capire che non l'avresti voluta. No, ne potevamo fare a meno. No, ne stiamo facendo a meno. Oh, è pronto. Andiamo a vedere prima lì? Aspetta, andiamo in zona portrone. Questa. Queste sono le portrone. In zona portrone è tutto grazioso. Qua si sta... Ci sono pure il lato vetro. Ah, ci possiamo anche il lato vetro sapere. Più spazio di qua c'è. Voilà. Ci sono i box per le valigie, design, valigie, cartelle e tutto il resto. Altra alia fuori. Andiamo fuori. Andiamo fuori, voglio vedere un po'. Ci sono anche i divani. Perché noi abbiamo accesso anche ai divani. Dove arriva? Qua penso che si può uscire. Porte piscina. Sapevo della piscina. Ci sono i costume. Sì. Dove è? Dove è? Forse saliamo di là. Forse saliamo di là. Però è più bello di lì quando parte. E camminavo, camminavo. Perché non abbiamo tempo. Porta l'assieme. Camminavo. Noi siamo saliti due ore prima. Però se c'è per la piscina un tuffo in piscina ci sta. Ma un tuffo in piscina mi costruiscono nelle valigie. Io scherzavo che le abbiamo qua. Dobbiamo scendere. È vuota la piscina. È vuota la piscina. vuota la piscina. No. Sì. No. Sì. 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 No. Sì. 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 Aspetta. Lei dove si è andata a pescare tu? Sì. Molus. Cosa cerchi? Ah, quello è la finanza. Sì. Il molo della finanza. Sì. La finanzia. Questo sono i cantieri, i navali. che ci sono pure dietro forse. E noi usciremo da lì in mezzo e prenderemo. Allora, andiamo a vedere dall'altro lato. Andiamo a vedere dall'altro lato. Da qua? Sì. Scicchia. Aspetta. Mi guardate anche questo lato. Mi guardo tutto quel lato. Non lo abbiamo visto. Ci sono pure i divanetti. Oh, ma dai che carucce. Questi sono i miei piccioni più. Andiamo all'altro fondo. Et voilà. Visto dove l'ho portato? Questa è la terrore dell'elicottero. Lì è dove ci sono i vigili del fuoco. Un sacco di volte ci sono andato a pescare. Ma come pure ci sono andato? Anche con mio papà. Questa è la terrore. Questa è la terrore. Questa è la terrore. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti